Ma Marella pronto a chiudere la Saracinesca anche nel prossimo campionato, nella prossima stagione? Sì, certamente, faremo del nostro meglio anche l'anno prossimo perché dopo l'annata quasi perfetta che abbiamo fatto la vogliamo fare perfetta, diciamo. Siamo pronti per questa nuova avventura e speriamo di dare spettacolo e di vincere qualcosa di importante anche quest'anno. Stagione perfetta significa tricolore, scudetto? Tricolore sicuramente, l'anno scorso Coppa Italia, quest'anno sicuramente punteremo a tutte e due, sicuramente. E poi più più lo scudetto perché è qualcosa che manca a questa società e che vogliamo noi giocatori dare a questa società che ci sta sempre vicino. Una società che ha investito molto, che è sempre al fianco della squadra. Insomma, voi siete più che mai pronti ad alzare ancora un po' la sticella dopo la finalissima persa con la Luparense? Sì, sicuramente. Come ripeto, una società che sta sempre vicino a noi, che ci dà tanto e noi vogliamo ricambiarla dopo la finale persa con la Luparense l'anno scorso a gara 5. E speriamo che quest'anno la fortuna ci assista pure. Stefano Mammarella, cosa chiede la prossima stagione oltre ai successi di squadra? Speriamo di arrivare fino in fondo e di dare il mio contributo al massimo delle mie forze. Quanto riguarda la nazionale, tu sarai impegnato anche con gli azzurri, una nuova stagione importante anche sotto questo punto di vista, per te un'ulteriore responsabilità? Sì, hai ragione. Però anche con la nazionale diciamo che ci manteniamo sempre in attività, quindi non stai mai fermo. Cerchiamo di trovare la giusta via che ci porta a dare il massimo. No, sì, il culo è importante che ci encryptioni da face. Sì, oh.